Ben ritrovati ragazzi, siamo in diretta, una diretta non diretta, questa volta andrò molto veloce, purtroppo avete fatto un po' di ritardo, però tratteremo la pubblicità televisiva, sempre le dispense le trovate, fanno parte del libro che avete, il corso di linguaggio audiovisivo multimediale, questo è un estratto preso dal libro, e niente allora, aspettate che mi sistemo, ok, allora, sempre qua, che cos'è la pubblicità? La pubblicità è un genere che nasce, non è nato per la televisione, è nato già prima, quello che è importante capire della pubblicità è che la pubblicità fa sempre riferimento a quello che è un target, sapete che cos'è un target? Un target è un bersaglio, ok? Quindi non so, vuol dire mirare, puntare e mirare a qualcosa, il bersaglio in questo caso può essere, non so, voi, un bersaglio, su che cosa vi bersaglio? Vi bersaglio probabilmente su quelli che sono i vostri consumi principali, i vostri consumi principali, vestiti, trucchi, giochi, applicazioni, ma che altro? Fa parte dei vostri consumi, sicuramente i giga, quindi non so, team, vodafone, windows, windows, ma team, vodafone, eccetera, eccetera, tendono a fare pubblicità, comunque sia che siano per voi e che vi regalino giga e quant'altro, ok? Quindi che cosa devo definire quando faccio una pubblicità? Innanzitutto appunto il target, è diviso in fasce d'età, fascia culturale, quindi ci sono dei parametri, ok? Fondamentalmente vi dico questo, la pubblicità per la maggior parte è mirata alle donne e soprattutto alle mamme, perché? Perché le mamme, questo non c'è scritto, ve lo sto aggiungendo, perché le mamme si dice che abbiano il potere d'acquisto e la mamma che fa la lista della spesa e dice al papà, in genere, voglio dire, è sempre in genere, fa la lista della spesa e dice al padre vai a comprare questo, questo, questo e questo, ok? idem, la mamma è quella che decide cosa comprare al figlio, ok? Quindi mamma mi compri questo, quindi come vedete, o almeno come vi sto dicendo, è la mamma che detiene quello che si chiama potere d'acquisto e quindi la gran parte delle mamme, vi faccio un esempio, prendiamo una pubblicità dei, come si chiamano, quella merendina della murino bianco, soffice, che è il, aiutatemi un attimo, tutte sono soffice, sì, no, non il, il, dai, merendina murino bianco, dai, che si vede tutta la famiglia, no, della Kinder, Kinder Delice, Kinder, come si chiama, Kinder? Kinder Delice, no, quella è quella col cioccolato, Paradiso, no, mi sbaglio io allora, oddio, vai, fetta a latte, ok, allora aspetta, Kinder fetta a latte, vediamola un attimo, allora, Kinder fetta a latte, io voglio proprio lo spot, quindi metto, no, Kinder, non è la Kinder fetta a latte, comunque anche nella Kinder fetta a latte, io, aiutatemi, come si chiama quella merendina, è della murino bianco, della Kinder, della Ferrero, come si chiama, addio, iniziamo bene, Kinder colazione, grazie, 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 Daniela, guarda, manche, è la Kinder colazione, già il termine, ah, qualcosa del genere, questa è, questa è, è Kinder colazione, o Kinder brioche, allora, guardate qua, prendo Kinder colazione più, prendiamo questa pubblicità, 33 secondi, vediamola un attimo, Lorenzo, un'ora per farsi la barba, 3 ore per scegliere cosa mettersi, Mattia, 2 ore per arrivare in cucina, al mattino ognuno ha i suoi tempi, meno male che prima o poi, arriva quel qualcosa in più di Kinder colazione più, un mix di 5 cereali, un pizzico di malto e cacao e un secondo per cominciare con il giusto slancio, Kinder colazione più, al mattino chi ci dà di più? Mattia, 2 ore in cucina, uno ha i suoi tempi, meno male che prima o poi… Fermi, chi è la persona che sta in piedi qua e che distribuisce? Il bambino, la mamma, è la mamma che compra, ricordatevelo, quindi questa è una regola del marketing, ragazzi, quindi stiamo facendo, vi sto dando informazioni che farete all'università, vi sto dando informazioni, mi sono fermato, sono fermato, ce ne sono altre di pubblicità, dove si vede chiaramente che la pubblicità in un certo senso è rivolta alla mamma, cioè a lei che va a fare gli acquisti, ok? A lei che decide la spesa, chiaro? Questo vi deve entrare nel cervellino, vado avanti, ok? Quindi target, chi è il target in questa pubblicità? Il bambino? E anche un po', il bambino è anche rivolto al bambino che deve dire mamma mi compri Kinder Brios, mi compri Kinder colazione più, ma poi effettivamente è la mamma che decide, e se io ti dico che la merendina è sana, è leggera, non contiene grassi, che è una cazzata, fa bene e chiaramente è una cosa che tutta la famiglia può consumare, guardate, tutti, sia quello pigro, sia quello che fa, quindi la pubblicità in questo caso ha scavato, dentro quelle che sono le abitudini, no? C'è la persona che ci mette due ore in bagno, però nonostante ci sarà sempre una Kinder colazione più ad aspettarti a colazione tutti insieme, in famiglia, tutti felici, ok? Questa è la base della pubblicità, lo vedremo se andiamo velocemente avanti. Allora, quindi target, abbiamo detto, vediamo dove stiamo, target, quindi definendo fascia di età, modello culturale, fascia sociale, sesso, quindi uomo, donna, bambino, eccetera, eccetera. Una volta individuate queste caratteristiche, l'agenzia studia appunto una strategia, che cos'è una strategia? Una strategia è come approcciarsi, quindi come strutturare il messaggio e come strutturare non solo il messaggio, ma anche poi come strutturare, attraverso le persone che ne fanno parte, proprio la pubblicità, come mandarla, cioè attraverso quali media mandarla, decidono anche per quanto tempo, perché la pubblicità ha un costo, cioè la trasmissione della pubblicità ha un costo, quindi devo decidere un budget e devo vedere questo budget, che cosa tiro da questo, supponiamo, un milione di euro. Vi sembra… ah ragazzi, vedete che vengono spesi un sacco di soldi in pubblicità, non sto scherzando, eh? Quando voi vedete la pubblicità di Calvin Klein, come si chiama, Light Blue, che si tuffano in mare, che lui esce dalla barca tutto bello bagnato, eh? Quelle pubblicità hanno un loro costo, ma poi non c'è solo la pubblicità, c'è l'immagine, l'immagine la devo mandare nelle riviste, l'immagine la devo mandare in rete, quindi andiamo avanti. Che fa l'agenzia? L'agenzia appunto dispone target e budget, vedete? si decide qual è appunto la campagna di stampa e di affissioni, devo fare i poster nelle grandi città di 3x6, devo fare i radiocomunicati, cioè mandarla via radio, devo fare lo spot per televisione e cinema, devo attualmente coltivare e sempre di più negli ultimi anni è aumentata appunto la pubblicità su internet e quindi, ehm, storie di Instagram, prendo quei, diciamo, sfrutto, perché è sempre la pubblicità che sfrutta, anche se loro pensano di sfruttarla, personaggi, ehm, opinion leader, ehm, che stanno su Instagram, su Facebook, no? eccetera eccetera, giusto? Ci siamo? Poi, che cosa succede? Succede che bisogna, c'è qualcuno che si mette al lavoro, come vi ho detto l'altra volta, abbiamo quella che viene definita la coppia creativa, che sono i, praticamente, eh, i copywriter, ok? Che fanno? Studiano il messaggio, studiano tutto il testo, studiano, se è un prodotto nuovo, studiano quello che viene chiamato payoff, o climb, il climb è, non so, vi faccio un esempio, San Bitter, c'è plus facile, ok? Prima, lo, sì, però, eh, diciamo, questo si chiama climb, slogan, lo slogan è un po' tutta la pubblicità, lo slogan è San Bitter, c'è plus facile, però la parte di sotto è il nome del prodotto, San Bitter, climb, c'è plus facile, ok? Cioè, è un rafforzativo che viene aggiunto, ah, in questo caso, cioè, fa parte dello slogan, ok? Può essere anche definito payoff, se lo trovo, eh, alla fine, tipo, ma non, ma non mi viene un payoff, perché devo andare avanti, però, andiamo avanti. Eh, chiaramente, mh, abbiamo detto, viene deciso dove, come, quando i creativi si mettono al lavoro, il creativo con il copywriter, il copywriter è quello proprio che mette mano al testo, alle parole, il creativo è quello che abbina grafiche o immagini, diciamo, si chiama coppia creativa, lavorano spesso insieme, ok? ehm, ci sono dei film su questo, grazie per la tazza di latte che si sente tutta, eh, grazie, eh, vado avanti. Eh, poi, quindi, abbiamo detto che viene, mh, viene messa in, diciamo, viene affidato a una campagna, a un'agenzia e l'agenzia, eh, qua sul testo troverete che dentro di sé a una casa di produzione, in realtà, per la maggior parte dei casi non è così. E, eh, la, sapete cos'è un conto terzi? Cioè, è la, eh, la, mh, agenzia che si affida, ok, a delle agenzie pubblicitarie, al delle, è l'agenzia che si affida a delle case di produzione che possono essere più o meno specializzate in questo tipo di pubblicità, ok? In realtà, a volte, le case di, ehm, di produzione, d'accordo con l'agenzia, possono chiamare un regista, eh, noto per fare una pubblicità, non so, può essere chiesto a Ridley Scott di fare una pubblicità, ehm, oppure può essere chiesto a, um, un regista che fa pubblicità da anni, quindi è specializzato in pubblicità e ha avuto anche molti riconoscimenti, ok? Dipende da quello che poi è, quello che si vuole dare. Comunque sia, chiaramente, all'interno, eh, della, poi della casa di produzione, troveremo tutto ciò che è la troupe, ok? Con il regista, il direttore della fotografia, macchinisti, insomma, tutto, ok? Ehm, sempre, ehm, se, se, se parliamo poi di, ehm, pubblicità e pubblicità, in questo caso, via radio, eh, dovrò anche, ehm, decidere o trovare quelli che sono gli speaker, ehm, a volte un prodotto ha una voce calda, o un prodotto per donne, eh, come un prodotto per uomini ha una voce decisa, ok? Eh, tipo, se io ti devo presentare una macchina, ti presento una macchina come qualcosa di nuovo che ti terrà, ehm, terrà, ci terrà alla tua sicurezza, avrà degli standard particolarmente importanti e quindi, ehm, avrà, diciamo, ehm, caratteristiche di sicurezza particolari, non solo, anche di ecologia, ma anche al di là, comprare una macchina non è poi tanto questo, ecco è tanto quanto la macchina è figa, e figo ci sarai anche tu, perché tecnicamente la macchina è intesa come uno status sociale, ok? Eh, andiamo avanti, allora, vediamo cosa dice qua, allora, è il tipico messaggio che mette in gioco più soldi fra tutti quelli finalizzati, vi ho detto, la pubblicità costa parecchi soldi, mette mano a molte persone, ehm, appunto, ehm, un parametro che viene considerato è, mh, per quanto riguarda i costi anche finali, è a che ora la mando? Vi faccio un esempio, quando la mando, in che periodo? Facciamo un esempio, mh, il, la Champions League, ok? Se io mando una pubblicità durante la partita di Champions League, che sapete non sono pubblicità piene, ma sono una specie di banner che escono fuori, quella pubblicità costa, ha un costo, se io ho un programma in prima serata, famoso, supponiamo Sanremo, Sanremo, dove tecnicamente a Sanremo, ehm, diciamo, avrò, può essere che io abbia molti, molti contatti, cioè c'è molta gente che sta vedendo Sanremo, ehm, probabilmente, probabilmente quella pubblicità durante Sanremo costerà molto, ok? Perché? Perché c'è tutta una struttura che, adesso vi dico, ehm, che serve a, ehm, serve a, diciamo, a registrare le statistiche, ehm, che vedono quante persone stanno vedendo quel programma, chi ne vede un altro, quanto tempo rimani su quel programma, su quella pubblicità, ehm, e quindi, mh, diciamo, studiano quello che è il gradimento, ok? Lo avrete sentito, forse a volte veniva pubblicizzato in, ehm, in, ehm, strisciola notizia, abbiamo fatto 11 milioni di ascoltatori, abbiamo fatto 13 milioni di ascoltatori, qual 13 milioni è tanto? Per mezz'ora è parecchio, che vuol dire, però, vuol dire che la pubblicità che va durante strisciola notizia è pagata tantissimo, cioè, ehm, siamo quasi in prima serata, la prima serata è il programma più importante della sera, siccome quello è un programma che va in preserata, cioè, quasi allo scadere del, diciamo, quasi all'inizio, perché, insomma, va verso le nove, qualcosa del genere, otto e mezza, nuove, ehm, e niente, vabbè, quindi, ma tra un po' vi dico come si fa, che cosa, che qual è il mezzo che si occupa di questo. Comunque, per creare gli spot si, si producono quello che voi siete chiamati a fare spesso, che è uno storyboard. In Italia, solitamente lo storyboard si fa per, non tanto si fa per, voglio dire, per il cliente, perché al cliente vi vengono presentati una serie di lavori, il mood board o l'animatic, l'animatic è uno storyboard ripreso con una telecamera, che viene montato, ma l'animatic può essere anche in 3D, qualcosa in 3D, tipo, io vi ho fatto vedere che con SketchUp si possono creare, ehm, delle, si possono creare dei 3D in movimento. Oppure si può fare rubamatic, cioè, rubo le scene da altri film, da altre cose che diano il senso di quello che io voglio, ehm, voglio creare, ehm, con il rubamatic, io rubo un po' di là, rubo un po' di là, costruisco un piccolo video, modi spot, in modo che una volta che io vado a presentare il mio progetto al cliente, che mi chiede, insomma, lei, voi che cosa mi potete fare come casa, come agenzia, gli produco il rubamatico, questi piccoli animazioni, o lo storyboard, o il moodboard, o l'animatic, gli do il senso di quello che poi sarà il prodotto, ok? Detto questo, ci spostiamo, ehm, mi sposto a, ehm, la storia della pubblicità in Italia, ok? Vado anche veloce, mi avete costretto ad andare un po' veloce, però, ehm, non posso fare altrimenti, allora, diciamo, abbiamo detto che la televisione nasce nel 54, però dal 54 al 57 in Italia non vi era, non vi erano spot, ehm, solo dal 57 in poi, più o meno per, anzi, più o meno, per vent'anni andrà in onda quello che è il carosello, che cos'era il carosello, il carosello era la pubblicità, la possibilità di fare pubblicità all'interno di un siparietto, perché vi dico siparietto? Perché mo' vi faccio vedere un spot, ehm, quindi che voleva dire siparietto? Voleva dire relegare la televisione all'interno di uno spazio confinato che durasse un determinato, ehm, periodo di tempo e che voleva dire che durante il giorno non c'era pubblicità, c'era la pubblicità nel momento del carosello, che solitamente era la sera, ehm, ed erano pubblicità particolari, perché in realtà erano delle pubblicità che contenevano all'interno delle microstorie e fondamentalmente era rigorosamente divisa in due pezzi la pubblicità. La pubblicità durava un minuto e trentacinque, di cui un minuto e quarantacinque era la microstoria, gli altri trentasecondi era, ehm, la enunciazione di quello che era il, ehm, di quello che era il prodotto. Parlo di enunciazione perché faceva sempre parte della storia, ma veniva poi presentato il prodotto, ok? Quindi sempre in questo periodo abbiamo avuto tutta una serie di slogan particolari, eh, personaggi che sono usciti, tipo Calimero, Calimero, eh, pubblicizzava Ava come l'Ava, Carmen Sita la macchinetta da caffè della Moplen, ehm, ci sono stati non solo anche testimonial importanti, eh, la pubblicità capì che aveva bisogno di testimonial. Il testimonial è una persona, inizialmente, ehm, erano personaggi famosi, attori, eh, tipo, mh, in Italia avevamo, tra le varie fiction che c'erano in Italia, infatti vi abbiamo detto che abbiamo parlato delle fiction, una delle fiction era il Terente Sheridan, l'attore era un Ubaldo Lai, vi prendo gli esempi che stanno scritti qua, perché eventualmente li potete cercare, ok? Faceva la pubblicità del Bianco Sarti, il Bianco Sarti è un, eh, un liquore, ok? Eh, c'è un altro attore, Ernesto Calindri, faceva la pubblicità della Cinar, ma tanto per citarne altri, Totò faceva la pubblicità. Eh, una famosa era, eh, la pubblicità di, mh, di Maurizio Costanzo Show, eh, che pubblicizzava La camicia col baffo, ok? Ma vediamo, vediamo un po' di pubblicità. Quindi, eh, come vi ho detto, le pubblicità andarono avanti fino al 77. Ricordatevi la struttura, 135 secondi, di cui 145 e 30, ok? Eh, molto spesso queste storie, quello che vi volevo dire, erano organizzate in modo da essere una specie di stop motion, quindi erano degli animazioni anche, eh, per divertire anche i bambini. Uscì, tant'è vero, c'era uno slogan al periodo che diceva, bambini andate a letto dopo, eh, dopo Carosello. Il che, 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 cosa voleva dire? Voleva dire che ormai nelle case degli, degli, dell'italiano, di chi si poteva permettere la televisione, eh, si sapeva che c'erano questi, questi piccoli spot, ehm, queste storie animate che piacevano molto ai bambini e quindi era entrato, diciamo, nella, stava entrando, eh, nella, diciamo, nella visione degli italiani il fatto che i bambini vedessero questi spot, queste pubblicità e poi subito dopo dovevano andare a nanna. Vediamo qualche spot della Carosello. Ehm, Carosello si apre così. Prof, sono riuscito ad entrare, sono Paolo. Va bene Paolo, stati buono, stati zitto mo, bravo, non dare fastidio, ti voglio bene, vediamo alcune pubblicità. Vado? Pubblicità della pubblicità. Mi fermo, avete visto? C'è stata una presentazione, questa presentazione... Ok, quello è il sipario di apertura, che qua tecnicamente non si è visto, ehm, vediamo se ve lo prendo di qua. Ah no, volevo proprio la sigla, eccola. Però non si sente. Non si sente? Cioè tu non senti? No. Vabbè, io la conosco, però comunque non si sente. Mmm, non si sente, ok, allora devo fare, eh, dovrei cambiare in Discord. Solo tu non lo senti? Tu non lo senti? O tutti quanti? No, proprio, neanche io. Ok, vabbè, allora vado in Discord. Ok, tranquilli, tranquilli, vado in Discord e cambio monitor. dove sta? Mo si sente? Oh, dicevo, questo è la sigla d'inizio. Da quel momento in poi, dopo la sigla, quello spazio che è dedicato alla pubblicità inizia ed è il carosello, ok? Allora, nel carosello cosa vediamo? Vi sto dicendo, abbiamo tanti personaggi famosi, vi prendiamo, vi prendo qualche spot famoso, mi conviene scrivere, carosello Carmen Sica. Ok, facciamo prima, eccolo qua. Nella pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavallero misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale. Sode un grido nella pampa. Carmen Sica, abita qui. no, ha traslocato. Dov'è, 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 la donna? Carmen Sica sta in paese. Non lo so, son genovese. Cavallero? Cerca uova? Ma che uova, Carmen Sica non si trova. Dov'è, 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 la donna? Carmen Sica, dove sta? Sono le cinque pacca. Salta fuori, bambolino. Oh, ti butto il fiestrino! Carmen Sica, dove sta? Oh, si calmi, sono qua. Carmen Sica, qui impiegata. Da tre mesi l'ho cercata. Ma perché, cavallero? Lei per me non fosse fielo. Ah, ah, io ce l'avo alla follia. Se le chiedi, è bella mia. Pazzolo, l'uomo ha tirato e l'uomo molto visto. E' stato pronto e l'uomo del paulista. Amore... Moloso mio. Paulista, amore mio. Capè, 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 paulista. Che perfumo. Si, il capè paulista è molto preoccupato perché non si vede così ma solo in latine sotto vuoto che lo proteggono dall'aria. Il capè paulista, anche vaccinato, costa solo 270 mila e lento. E la mattina non si paga. Capè paulista. E la domenica mi esce la pazza che è sempre musica. Ok, che abbiamo visto? Au, giovani. Prof. Au, ci siete? Prof, la sento male. Ok. Chi è che parla? Io, Claudia. La sento male. Eh, ho capito. Ho capito. E gli altri come sentono? Bene, prof. Allora, ragazzi, se c'è qualche problema, io penso che sia dovuto alle vostre connessioni. Cioè, non... Sì, vabbè, a me saranno problemi. Eh, allora, non... C'ha, vado avanti. Allora, cosa vi volevo dire? La cosa importante è questa. Che... Vedete adesso la pagina di internet sempre, no? Ok. Allora, per farla breve. A chi era affidata la pubblicità? La pubblicità in Italia era affidata dalla SIPRA, società italiana per la pubblicità radiofonica affini. Che vuol dire che era una pubblicità... La pubblicità era, scusate, partecipazione, ma la maggiorità di LIRI era istituto ricrescita italiano. Cioè, tutta una storia su LIRI, non andiamo avanti. Diciamo che faceva parte della RAI. Ehm... Esisteva già per raccogliere quella che era la pubblicità, la pubblicità via radio. Ok? Fondamentalmente la pubblicità che andava su Carosello, io ve l'ho già accennato, la pubblicità che andava su Carosello è una pubblicità nazionale. Ok? Ma che succede? Succede che più in là, cerco di andare avanti, una volta finito Carosello, nel 77, già qualche anno in quegli anni, iniziò a uscire lo spot televisivo. Quindi non più, diciamo, un sipario in un determinato periodo della giornata, ma un po' in tutta la giornata, come siete abituati a vederla, la disseminazione di più spot, ok? Di più spot pubblicitari. Che cosa avevano? Avevano spesso un testimonial, avevano... c'era sempre un... era studiata tutto un jingle, e inizialmente erano legati a personaggi, poi si passa alla gente comune negli anni 70. vi faccio vedere... vi faccio vedere lo spot di... dove siamo? Andiamo qua... Allora, sempre negli anni 70 nascono, ve l'avevo già accennato, le televisioni private, e da quel momento in poi cambia l'idea di pubblicità. Perché cambia? Perché, come vi ho detto, l'Italia, diciamo la Sipra, si occupava solo di quelle che erano le pubblicità a livello nazionale. E non tutte però, non tutte le aziende italiane potevano fare pubblicità, ok? E questo diventò un problema. Nel momento in cui vennero create le televisioni private, ci fu questa apertura delle piccole e medie imprese alla pubblicità. Quindi, Tele Milano, Tele Svizzera e qualcosa, Telenorba, iniziarono ad accontentare quelle piccole e medie imprese che volevano farsi pubblicità, che fino ad allora non avevano potuto. Tipiche di quegli anni fu una pubblicità, che vi faccio vedere, che era quella dell'Aiazzone. Aiazzone era un'azienda di mobili, che peraltro è fallita, di mobili di Cantù, che però riuscì in quegli anni, grazie a una pubblicità massiva, ok? Grazie a prezzi molto bassi, a vedere un sacco di mobili, a fare molta pubblicità. E la pubblicità era condotta da Guido Angeli. Vediamo, allora, la pubblicità è Aiazzone, spot degli anni Ottavanti. Eccolo qua. Vieni, vieni, vieni da Aiazzone. Allora, prendiamo questa. Sente, innanzitutto? Penso di sì. Sì, prof. Ok. Il nuovo edificio Aiazzone, in occasione di Age 81, vi invita a visitare i suoi stand e la sua grande disposizione. Troverete cucine da dire un milione e cinquecenta mila, camere da letto novecentocinquantamila, soggiorni seicentoottantamila, savotti duecentocinquantamila. Hai pagamento fino a tre anni senza cambiare. Ora, Aiazzone ti offriva un milione la televisione, questo è lo spot che vi voglio fare vedere. Vieni, vieni, vieni da Aiazzone, quanti modi ti troverai? Vieni, vieni, vieni da Aiazzone, e dal casa tua le alai? Vieni, vieni, vieni da Aiazzone, vieni e non ti pentirai. Vieni iniziala, vieni iniziala, vieni iniziala, vieni iniziala, vieni iniziala, vieni in alto al torpedale, perché Aiazzone ti piacerà, perché Aiazzone ti piacerà. Aiazzone è la scelta più bella del mondo. ok ce n'era un'altra dove diceva oh maronna questa forse provare per questo tv color gratis cioè iniziano si sente bene la mia voce iniziano a regalare oltre quindi vedete la pubblicità abbiamo cioè non è una pubblicità particolarmente bella cioè viene presentato quello che è un angolo di negozio con quindi diciamo è una pubblicità abbastanza grezza provinciale come può fare una o poteva fare all'epoca una televisione che aveva pochi mezzi da investire lo spot non costava tantissimo però piano piano passò vedete dove è in onda su Rete4 la pubblicità estate a Iazzone gli architetti ti ospiteranno da lunedì a venerdì a pranzo e cena per la tua vacanza gratuita sulle Alpi Bielesi potrai acquistare questo soggiorno che ti sarà consegnato gratuitamente in tutta Italia isole comprese a solo 1.450.000 lo pagherai come vuoi fino ad 8 anni senza cambiali scegliendolo tra mille ambienti garantiti dal marchio d'oro a Iazzone e al sabato la grande festa a Iazzone provare per credere benissimo ragazzi provare per credere ricordatevelo sempre provare per credere allora ho finito quasi diciamo dagli anni 80 in poi dalla fine degli anni 70 si crea Publitalia 80 che è un'agenzia pubblicitaria diciamo rilevata da Silvio Berlusconi che decide di inviare in giro in Italia i propri commercialisti i propri venditori di pubblicità che definivano insieme alle persone lo spazio da vendere quanto tempo i vari spazi pubblicitari ci fu diciamo una lotta con la Sipra ma poi bene o male decisero e questa è la parte importante che mi interessa decisero di accomunare tutti i loro sforzi attraverso quello che venne chiamato l'auditel cioè l'auditel che cos'è l'auditel è un sistema messo in campo da Publitalia 80 e da Sipra sappiatelo e questo è importante da Publitalia 80 e da Sipra che quindi hanno creato un duo polio cioè un comandano praticamente in due hanno montato nelle case delle persone non di tutte di un campione di persone supponiamo su 10.000 persone 100 hanno il sistema di rilevamento auditel nelle case registra qualsiasi cosa tu faccia col telecomando ok se io cambio canale lui lo registra registra per quanto tempo sono stato su quel canale per quanto tempo ho visto quel film a che ora ho visto il film a che ora ho visto la pubblicità registra tutto e tutti i dati confluiscono in quella che è la raccolta dati dell'auditel una volta che io ho la raccolta dati anche i dati sono in percentuale cioè sono un tot su una una misura più grande quando a striscia la notizia dicono e anche oggi abbiamo fatto 13 milioni di ascoltatori quel dato non è prettamente reale ma è un dato statistico ok quindi si suppone che siccome in percentuale gli italiani non so quanti siamo faccio un esempio 60 milioni su 60 milioni di italiani 13 milioni di italiani in percentuale rispetto a quelli che sono le percentuali dei dati ripresi da auditel quelle persone si sono hanno visto il nostro programma ok ho quasi finito che succede succede che piano piano si passa si passa negli anni 80 a una pubblicità confezionata appunto per la famiglia ok infatti come abbiamo visto nella pubblicità kinder troviamo quella che è la pubblicità dedicata alla famiglia vorrei e concludo con questo vi faccio vedere una pubblicità segnata da una storia da una storia per la famiglia e dai jingle finali ok il jingle finale è qualcosa che accompagna la musica tipo quella della mulino bianco o tipo tutte le pubblicità ok vi faccio solo vedere quella della barilla e poi chiudiamo perché siamo già in ritardo la prossima volta vi chiedo di connettervi prima poi ve lo andate a finire di leggere voi spot barilla anni 80 ok allora ragazzi guardiamo questo spot vedete dove barilla c'è casa quello è il payoff finale quella è la parte finale della pubblicità cioè barilla dove c'è casa dove c'è casa questa pubblicità a chi è rivolta è rivolta alle donne che comprano la pasta perché è rivolta alle donne perché è rivolta alla famiglia ma alle donne che la comprano perché quella pasta tiene unita la famiglia che pote a tutti bene Grazie a tutti. 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 Adesso gli spot sono cambiati un po', abbiamo, prima lo spot, prendiamo il Tegolino, questa pubblicità del Tegolino, del Mugnaio, vuole riprendere un po' i sapori di quello che era il carosello, cioè dove c'è un personaggio. Vedete la differenza 82, abbiamo ancora l'animazione, 90 abbiamo i testimonial che sono le famiglie reali, diciamo reali, ipotetiche. Quindi c'è già una differenza, mentre qua negli anni 2012, in questo caso, io vedo quello che è questa qua, abbiamo il testimonial, abbiamo il nostro attore famoso che sembra si sia messo a fare tutti i prodotti, il panettiere praticamente. Quando in realtà sappiamo che non è così, oggi cria il Tegolino, domani cria il pangocciolo, domani cria le fette biscottate. È incredibile anche se in realtà è tutto finto. La gallina rosita, il pan bauletto, è tutto finto. Vi faccio vedere questa. Ogni mattina, svegliati con una buona abitudine. La prima colazione. Latte, caffè, è un prodotto da forno, cioè carboidrati e proteine. Proprio quello di cui abbiamo bisogno per affrontare la giornata. Lo dice la nostra tradizione, e lo dicono gli esperti della nutrizione. La prima colazione è l'italiano. Lo giusto, per cominciare la verdura. Capito mamma? Hai capito? Tu che sarai la futura mamma, hai capito? Lo dicono i nutrizionisti. E quindi se lo dicono i nutrizionisti, quello che noi stiamo vendendo è una cosa sana. Questo ti sta dicendo la pubblicità. Lo dice la nostra tradizione. Quindi, se vuoi fare la donna, brava donna di casa, devi comprare la nostra merendina, che fa parte della nostra colazione italiana, e lo dicono i nutrizionisti. Te lo dice anche qua. Ora, fate attenzione a questo. Anche la Coca-Cola sta cercando di entrare sempre di più in una falsa alimentazione mediterranea. Perché dico così? Perché se vedete le pubblicità della Coca-Cola attualmente, la Coca-Cola la vedete sempre a pranzo. Ok? Spot Coca-Cola 2019. Vi faccio vedere la Coca-Cola, te la presentano mentre mangia a pranzo. Pure il nonno si beve la Coca-Cola. Vabbè, non è questa la pubblicità, però vi assicuro, peraltro non è una pubblicità italiana. La Coca-Cola viene presentata anche durante l'ora di pranzo. Che altro? Posso concludere qua? Sì, prof, che è tardi. Ok. Va bene, va bene. Allora, io andatevi a vedere, chiaramente troverete tutto, e quindi vi metto sia la registrazione che i due file. Ricordatevi, importante, Sipra e Auditel insieme, Sipra e Publitalia 80 che creano l'Auditel. È molto importante quello, perché in realtà definisce tutti i programmi che poi girano in televisione. Soprattutto attraverso l'Auditel, questo non ve l'ho detto, in base ai dati dell'Auditel, le aziende chiedono il compenso per gli spot. Ok? Siccome questo programma ha fatto 12 milioni di persone, tu per mandare la pubblicità mi devi dare tot soldi. Se quel programma ne fa 5, me ne devi dare di meno. Ok? Cioè, la pubblicità viene pagata in base ai dati dell'Auditel. Questo che dovete sapere. Va bene, ragazzi, alla prossima, ci vediamo. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, prof. Buongiorno.